Uno, due e tre! Fate un bel applauso, benvenuti! Ritorna in scena, venerdì 10 settembre alle ore 21.30 al Teatro di Villa Filippina a Palermo, il divertentissimo spettacolo di cabaret del noto artista siciliano Sasa Salvaggio. Il comico palermitano, dopo i successi teatrali in America trasmessi in tutto il mondo grazie a Rai Italia e le balconate all'interno del programma Mediaset Striscia la Notizia, continua a registrare milioni di visualizzazioni tra tv e web. Il pubblico potrà ritrovarlo nuovamente on stage con una performance irriverente dove saranno protagonisti aneddoti legati alla Sicilia, alla sicilianità e al suo essere palermitano. Un racconto vivo e colorato della nostra isola, attraverso le caratteristiche del suo popolo che in maniera educata e raffinata divertirà il pubblico presente. Non mancheranno gli sketch sulle differenze tra Sicilia e America, il rapporto dei palermitani con il cibo e il noto monologo sulle cosiddette abbagnate con la lapa. L'eclettico showman Sasa Salvaggio sarà accompagnato al piano dal maestro Peppe Corsale. Tante divertenti parodie e canzoni siciliane regaleranno leggerezza alla mise en scene e al pubblico. La direzione artistica dell'evento è affidata a Christian Carapezza. Per partecipare allo spettacolo saranno rispettate le normative anti-Covid-19 ed è necessario esibire il Green Pass all'ingresso. Un ultimo appuntamento di questa stagione. Prima dell'estate, anzi con la fine dell'estate, ci facciamo le ultime risate. Sperando che non ci chiudano ancora, che possiamo rimanere almeno in zona gialla. Insomma è un'occasione per stare insieme, per farci due risate. Ci sarà il meglio del mio repertorio, dalle abbagnate, le lape, il mangiare, l'America. Insomma un'ora e mezzo di sano divertimento, perciò vi aspettiamo a Villa Filippina. Farò anche le balconate, quelle che facevo dal balcone di casa mia con il maestro Peppe Corsale. Insomma perciò sarà veramente un'occasione per stare insieme, per ridere e goderci anche la frescura. Speriamo che questo cavolo non si ne può più di Villa Filippina. Un aneddoto dello spettacolo che racconterai? Ma guarda, il miglior aneddoto è quello che non conosco. Cioè nel senso che siccome, anche se racconto delle cose magari conosciutissime, però io ogni volta ho la capacità di cambiare sempre, di inserire sempre cose nuove, soprattutto anche le mie famose improvvisazioni che nascono sia da quello che succede sul pubblico e quello che succede sul palcoscenico mentre sto recitando. Infatti la cosa bella che si vede è il pianista che sta accanto a me, che improvvisamente comincia a ridere come un pazzo. E la gente si chiede, dice ma questo che ogni sera l'acqua, chi rire? Perché non si aspetta neanche lui. Infatti ogni tanto io dico questa qua scriviamocela perché mi piace. Le performance di un comico sono le performance di un artista che sul palco deve ascoltare molto il pubblico per capire quando e come ricevere il feedback. Assolutamente sì. Per esempio per un musicista è diverso. Cioè nel senso che il musicista può anche cantare se il pubblico magari si distrae un pochettino, però può ascoltare lo stesso e può apprezzare alla fine l'esibizione. Per un comico no, il comico ha bisogno proprio dell'occhio, della risata, ma si sente se uno spettacolo funziona o no, perché la gente o ride o non ride. Certo io con le mascherine, purtroppo adesso bisogna stare con le mascherine anche all'aperto, è più difficile sentirle, giustamente ridere, seguire con la mascherina è un po' più faticoso. Però ti devo dire che ho fatto tanti spettacoli con le persone con le mascherine e alla fine la gente ride lo stesso. Chi è stato che mi ha spinto? Ku fu kamammu tau. Vieni come pareti.